Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele Bertossio, da 10 anni e sono responsabile della flotta noleggio Sofim, composta da macchine in movimento terra, attrezzature caro e cattiere, gruppi elettrogeni e per ultimi, ma non per importanza, di trattori agricoli. Noi abbiamo le macchine, ma è necessario che chi le utilizza abbia l'abilitazione. Sofim, sensibile ed attenta al mondo in continua evoluzione, ha sentito la necessità di offrire ai propri clienti ulteriori servizi, tra cui la possibilità di effettuare la formazione, sia sulle macchine in movimento terra che sui trattori agricoli, ed io ne sono una referente. Ciò è stato possibile attraverso una consolidata ed ottima collaborazione con Officina del Carello, che ha 15 anni di esperienza in formazione diretta e grazie alla CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Imprese, che ricopre il ruolo di responsabile del progetto formativo di tutti i nostri corsi. Diamo la possibilità ai nostri clienti di formarsi con un team di officinisti che garantiscono serietà, competenza e qualità al giusto prezzo. In questo momento voglio rivolgervi a tutti coloro che aggiornano trattori agricoli e forestali, che hanno almeno biennale esperienza, ma non sono ancora in possesso dell'abilitazione e dell'utilizzo di tali macchine. Vi diamo la possibilità di scrivervi ai nostri corsi di aggiornamento, che sono di solo 4 ore per trattori su cingoli e 7 ore per entrambe le tipologie. Risparmiando così tempo preziosissimo sottratto alla vostra attività ed anche il denaro. I corsi vengono svolti a cadenza mensile o più, a seconda del numero delle vostre richieste. Vengono svolti presso la sede di Udine ed anche Zoccola, in provincia di Pordenone. Per iscrizione basta telefonare alla segreteria corsi al numero 0432 600 471 e vi daranno tutta l'indicazione sulle date e su come sono studiati i corsi. Non esitate, veniteci a trovare il software dove troverete il materiale informativo e sarò ben dietro di rispondere a qualsiasi vostra domanda inerente a questo argomento. Arrivederci e a presto!